Anche la consulta a Revaste con i rappresentanti delle province piemontesi partecipa alla 34esima Assemblea Nazionale di Anci, l'Associazione dei Comuni. Un momento importante di incontro e di confronto, Presidente Ramelle. Partecipare sembra importante. Come ha detto ieri il Presidente Nazionale, le province sono fondamentali per il territorio nazionale, non possiamo fare finta che esista solo ed esclusivamente le città metropolitane. Rappresentare le province piemontesi è per me un onore. Oggi abbiamo l'Assemblea Nazionale dei Presidenti di provincia e naturalmente cercheremo con il Governo e insieme al Governo di capire come riportare all'onore della normalità gli enti che rappresentiamo, perché sono in fortissima difficoltà ma hanno una motivazione che mancano 650 milioni di euro certificati dal Governo. Qualche problema c'è che va risolto ed affrontato.